Musica Buongiorno a tutti. Tramutiamo senza indugi le nostre spade in vomeri. Questa conferenza si svolge perché vogliamo ottenere la pace, perché vogliamo chiedere al Santo Padre e ai Vescovi di consacrare la Russia alla Madonna, al suo cuore immacolato. La pace è quindi lo scopo principale di questa conferenza. Isaia disse che bisognava forgiare le spade in vomeri. Tutti dobbiamo farlo. Oggi non c'è pace nel mondo. Continuiamo a condannare le nostre anime, insegnando agli altri a combattere a livello politico, economico, sociale e ovviamente militare. Per questo motivo dobbiamo assolutamente forgiare le nostre spade in vomeri. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Luca 2,14 Dio vuole che l'umanità abbia la pace, ma vuole anche che l'umanità l'abbia in gloria. Tutto il creato è di per sé una lode al Signore per il solo fatto di esistere. Noi esseri umani glorifichiamo il Signore con l'intelligenza, perché abbiamo intelletto e libero arbitrio. Dobbiamo quindi essere in pace col Signore, ma anche col prossimo e anche con noi stessi. Se non siete in pace con voi stessi, non potrete essere in pace con Dio e col vostro prossimo. Non sarete in pace col resto della creazione. La pace, pertanto, sotto quest'ottica deve nascere dentro ciascuno di noi. È quindi fondamentale essere in pace con noi stessi. Questo significa convertirsi interiormente, purificare il nostro cuore e pentirci. Gli esseri umani, per loro stessa natura, tendono ad essere arroganti, irascibili, invidiosi, orgogliosi. Per non essere così, abbiamo bisogno dell'ausilio e della grazia del Signore. Visto che ci troviamo nella città eterna, vorrei fare proprio l'esempio dell'impero romano, che come tutti sapete fu potentissimo, aveva un esercito formidabile e un'amministrazione complessa ed efficiente. Il sistema giuridico romano era talmente valido che ancora oggi la maggior parte delle nostre leggi, almeno in gran parte delle nazioni del mondo, si basa sul diritto romano. Grazie alla sua amministrazione lungimirante, al suo esercito invincibile e ad un sistema legale avanzatissimo, Roma fu in grado di annettersi un territorio vastissimo, attraverso guerre, conquiste e trattati. L'Europa occidentale, perlomeno gran parte di essa, il Medio Oriente e tutta l'Africa settentrionale, finirono sotto leggemonia dell'impero romano, che fu in grado di mantenerne il controllo per molto tempo, sempre grazie al suo grande esercito, alla sua grande amministrazione e al suo avanzatissimo sistema giuridico. Per molti anni si godette della cosiddetta Pax Romana. Anche San Paolo, ad esempio, temendo di non poter ricevere un giusto processo a Gerusalemme, decise di recarsi a Roma per essere processato lì, poiché avrebbe ricevuto un processo eco. E infatti San Paolo venne ascoltato. A pensarci oggi sembra incredibile un simile sistema giuridico, una simile amministrazione e la pace che riuscirono ad ottenere. Cristo stesso fu processato sotto Ponzio Pilato, il quale non trovò nulla di sbagliato in quella persona, non ravvisò alcun reato commesso da Gesù e pertanto lo rimandò alla sua gente. Che sistema giuridico! Efficace, complesso e utile! Proprio perché volevano mandarlo a morte, ma Ponzio Pilato non trovò nulla di sbagliato in quell'uomo, secondo le leggi romane e secondo la pace e l'amministrazione di Roma. Ma allora perché finì la pace? Perché finirono l'amministrazione e il sistema giuridico di Roma? Perché nella maggior parte dei casi essi non si basavano su giustizia, integrità e virtù. Si basavano solo sul dominio, sulla sottomissione, sulla paura. I romani affermavano ordine e dominio. Possono anche odiarci, ma se continuano a temerci non è un problema. Si leggeva tutto sulla paura. Perché finì l'epoca romana? Perché subentrò la decadenza? Perché l'eccesso penetrò all'interno del quotidiano e non vi fu più alcun rispetto per la persona umana. Prendiamo ad esempio i gladiatori usati nel Colosseo, uomini che combattevano l'un l'altro dinanzi ad un pubblico assetato di sangue, leoni che sbranavano esseri umani. Questo tipo di piaceri eccessivi, di comportamenti decadenti, oltre ovviamente alle note invasioni barbariche, portarono al collasso dell'impero romano e alla fine della sua pace. Alcuni resti sono tuttora tra noi, ma l'impero romano è caduto. Alcune cose positive le abbiamo apprese dai romani e sono tuttora utilizzate, come il sistema giuridico, visto che, come ho già detto, le leggi della maggior parte dei paesi del mondo si basano sostanzialmente sull'antico diritto romano. Nell'amministrazione pubblica, il Senato e i suoi rappresentanti si autodefinivano SPQR, Senatus Populusque Romanus, cioè il Senato del Popolo Romano. Quindi, ovunque vi siano senatori e rappresentanti, siano essi in una Camera dei Deputati o dei Lord, proviene tutto dal diritto e dall'amministrazione di Roma. Tuttavia, la cosiddetta città eterna cadde perché la sua civiltà non si basava su valori morali, non si fondava sulla virtù dell'amore e del rispetto nei confronti della vita di ogni essere umano. Fu per questi motivi che l'impero romano crollò dopo più di mille anni di storia. Una volta caduta Roma, l'Europa ha subito una serie ininterrotta di guerre di conquista, guerre nazionali e internazionali, come quella dei cent'anni, dei trent'anni e ultimamente le due guerre mondiali. Ma perché? Perché non abbiamo trasformato le nostre spade in vomeri, perché non abbiamo avuto la volontà per farlo. Prima o poi, tuttavia, questa grazia ci verrà donata dal Signore. È proprio di questo che voglio parlare oggi. Esistono molti organismi internazionali che cercano di ottenere la pace. Dopo la Prima Guerra Mondiale fu creata la Lega delle Nazioni. Dopo la seconda furono create le Nazioni Unite. Tutte hanno cercato o stanno cercando di portare la pace, l'armonia e la tranquillità nel mondo. Forse un po' di queste cose le abbiamo ottenute, ma a livello mondiale tutto ciò è ben lungi dall'essersi materializzato. Prendiamo le Nazioni Unite e altre istituzioni come la Banca Mondiale. Chi le controlla realmente? Sono i poteri forti, i soldi, il Fondo Monetario Internazionale, poteri forti e soldi, l'UNDP, potere e soldi, le forze di pace delle Nazioni Unite, da quel che si è visto in Cecoslovacchia, in Jugoslavia, nel Darfur o nel Congo, che controlla realmente questi programmi? Sono gli interessi forti ed il dio denaro. Sono questi i poteri forti e gli interessi economici che determinano chi o che cosa deve intervenire e dove. È il vecchio detto se la cantano e se la suonano da soli, ma la vera pace non verrà mai, fino a che non avremo ottenuto il rispetto reciproco in quanto esseri umani, in quanto persone. finché non vi sarà il rispetto per i diritti umani, a prescindere dalle differenze, qualunque esse possano essere. Anche se si tratta di un nascituro, si tratta di vita e come tale va rispettata. Altrimenti non saremo mai in grado di far pace con noi stessi e quindi non saremo mai in grado di far pace con i nostri fratelli, con Dio e con il suo creato. Si può parlare quanto si vuole di questioni ambientali o ecologiche, ma se non troveremo la pace in noi stessi, non saremo mai in grado di far pace con la natura. Siamo e continueremo ad essere distruttivi nei confronti delle foreste, degli oceani e della terra in generale perché non abbiamo pace in noi stessi. Ecco perché ottenere la pace è fondamentale. Ma come possiamo riuscirci? Mutando i nostri cuori grazie ad una conversione interiore. Dobbiamo tutti rinunciare al nostro orgoglio, alla nostra ira, alla nostra invidia. Dobbiamo farci umili e obbedienti. Dobbiamo saper perdonare. Dobbiamo riconciliarci col nostro prossimo dopo averlo fatto con noi stessi. Provenendo dall'Africa vorrei dire non una, ma molte parole sul mio bel continente. dopo che le nazioni africane ottennero l'indipendenza ponendo fine alla dominazione coloniale c'erano grandi speranze che l'Africa si potesse sviluppare velocemente e godere infine di pace e prosperità. Questa era la speranza e in alcuni casi l'Africa ha fatto abbastanza bene. Dico abbastanza perché le problematiche superano di gran lunga i punti favorevoli purtroppo. L'aspettativa di vita è aumentata un poco e la mortalità infantile è diminuita. È cresciuto il tasso di alfabetizzazione i servizi sanitari sono disponibili ad un maggior numero di persone. Sotto questi aspetti si può dire che vi sono sicuramente motivi di speranza. Insomma dei miglioramenti ci sono stati. Tuttavia l'Africa ha sofferto e continua a soffrire di problemi gravissimi. guerre civili corruzione violenze pre-elettorali e post-elettorali pessimi governi processi ingiusti incarcerazioni coatte. La gente in Africa scompare senza una spiegazione. Questo da un punto di vista politico mentre da quello sociale e sanitario imperano la malaria e l'AIDS così come la mancanza di cibo e le carestie. Il futuro dell'Africa non è senza speranza ma tutti questi problemi impediscono l'ottenimento della pace. Talvolta ovviamente tutto questo viene magari esagerato o esasperato dalla stampa e dalle televisioni ma è una realtà e chi vive in Africa sa bene quali sono le condizioni di vita e i problemi che esistono nel nostro continente. Come possiamo migliorare la situazione in Africa? Di certo le carestie la disoccupazione e le malattie non ci porteranno la pace ma solo rivolte dimostrazioni e altre guerre. La pace in Africa è fondamentale perché le violenze spesso sconfinano al di là del nostro continente. Certo l'Africa conta poco a livello internazionale non abbiamo grandi eserciti e nessun nostro paese fa parte del G8 solo in Sudafrica se non erro fa parte del G20 insomma non siamo potenti lo sappiamo ma l'Africa ha bisogno di cambiare il suo cuore spesso sentiamo dire che i problemi che affliggono l'Africa provengono dall'esterno per alcuni di essi forse è così ma la maggior parte dei nostri problemi sono solo colpa nostra noi africani dobbiamo convertirci e purificare il nostro cuore per migliorare la nostra situazione come? attraverso la preghiera attraverso la penitenza facendo pace con noi stessi e con i nostri fratelli riappacificandoci con Dio con la natura e con tutto il suo creato forgiamo quindi le nostre spade in vomeri senza esitare combattiamo la fonte dell'orgoglio dell'invidia e dell'avarizia lottiamo contro la volontà di un certo gruppo di primeggiare su di un altro contro l'atteggiamento dei nostri leader che non ascoltano la voce del proprio popolo che sprecano o si appropriano dei fondi pubblici a spese della popolazione sofferente che gettano in prigione persone innocenti senza un giusto processo e che governano per il proprio tornaconto invece di ascoltare chi li ha eletti al potere l'Africa può e deve pregare l'Africa sa come pregare le nostre preghiere pregare per quella speranza preghiamo per i vescomi preghiamo per il mondo intero preghiamo affinché l'Africa possa veramente convertirsi e mutare il proprio cuore le nostre preghiere possono essere efficaci ed è proprio attraverso la preghiera che aiuteremo il Papa ed i vescovi a consacrare la Russia al cuore immacolato di Maria la consacrazione della Russia è fondamentale e necessaria come abbiamo appreso nei vari discorsi di questa conferenza se la Russia verrà consacrata al cuore immacolato di Maria e si convertirà allora molte cose a livello mondiale miglioreranno e vi sarà la pace il contributo dell'Africa a tutto questo non verrà certo grazie ad eserciti soldi e nemmeno grazie alla diplomazia il nostro contributo sarà la preghiera una diplomazia che affermi nessun nemico e nessun amico permanente solo alleanze e alleati di convenienza è una diplomazia molto pericolosa dovremmo tutti essere amici di tutti per sempre perché tutti gli uomini sono stati creati ad immagine e somiglianza di Dio la diplomazia e gli interessi economici dei poteri forti non possono aiutarci ma l'Africa può pregare affinché tutto questo un giorno possa cambiare noi non abbiamo molti soldi non abbiamo molto potere ma possiamo pregare il Signore affinché muti i nostri cuori e ci aiuti a far cambiare anche quelli dei nostri fratelli e tutto questo grazie alla preghiera l'Africa tuttavia deve innanzitutto purificare il proprio cuore perché dobbiamo essere prima in pace con noi stessi dobbiamo prima risolvere i nostri problemi in Africa spiritualmente parlando se vogliamo che le nostre preghiere siano realmente efficaci purtroppo attualmente in Africa il diavolo sta introducendo alcune forme di culto satanico ora come ora non si sono ancora diffuse ma stanno diventando un problema dobbiamo estirparle il prima possibile perché quando avranno raggiunto una certa massa critica questi culti demoniaci diventeranno un problema gravissimo le nostre preghiere siano la cartina torna sole delle nostre azioni soprattutto in Africa perché non puoi chiedere a Dio di concederti qualcosa se sei tu il primo a non meritartela a casa tua là dove vi sono corruzione e ingiustizia là dove vi sono cattivi governanti che la fanno franca malgrado le loro azioni criminali la gente si sente autorizzata a fare di tutto impunemente dobbiamo quindi pregare affinché l'Africa cambi il proprio cuore e affinché le nostre preghiere diventino efficaci quando preghiamo per il Papa e per i Vescovi affinché consacrino la Russia al cuore immacolato di Maria grazie 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 grazie